Si continua, bene, cosa vuol dire? Si continua vuol dire che andiamo nel prossimo circuito, la miniera d'oro di Wario, un altro bel posto, sì, bel posto, per me non è tanto bello, cioè no, è bello, però è difficile. Wario Goldmine, yeah, uh, divertentissimo! Wario è proprio fissato con l'oro, non ha niente di meglio da pensare? Porca miseria, porca miseria, Mario ci ha schiacciati con il suo mega fungo, infatti aveva un certo presentimento, e intanto Baby Peach, Rebu e Struzzi ci hanno superati, ma non importa. Abbiamo Wario proprio davanti agli occhi, ma scommetto che la sua prima posizione non si darà per cento, ovviamente. Va, 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 bravo, bravo Tortosso, bravo, anche se sei un mucchio d'ossa sei ancora intelligente. Sportuna parte sono anche caduto nel burrone, chiamiamolo burrone perché sotto c'erano delle case, non so come. No, Bowser mi ha rubato il cubo oggetto. Ah, ma comunque era soltanto uno stupido, inutile, guscio rosso. Perfetto, siamo secondi dietro Wario, anzi, però siamo primi. Chi è che ci schiaccerà? Chi è? Nessuno. Eh, comunque, credo Baby Mario. Ah, bambagno. Ci mancava pure questa orrenda, orrendo svolgimento. Yahoo! Eh, mi ha colpito? Cazzo. Oh, siamo quinti. Non è una bella posizione, eh? Abbiamo davanti Bowser e Rebu. Ora abbiamo Rebu e... Anzi, ma abbiamo soltanto Mario avanti. Credo sia lui. Chi c'è davanti? Bene, vedrai come te le suono, Mario. Prendi questo. No, era un Wario. Oddio. Wario, essendo decisamente più potente, è meglio che mi raggiunge e io è meglio che me la do a gambe perché se mi prende mi spezza. No, Wario, se ti prende proprio ti stacca l'orecchio. Vai! Ho lanciato un guscio per sbaglio. Avanti poi. quindi è come se dovesse andare a quel paese. Bene. Bene, 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 bene. Vai, vai, vai. Aha! Siamo proprio sotto il carrello, anzi, l'abbiamo superato. Porca miseria. Ho fatto una gran mossa. Orrendo. No! Ultimo giro. Sì! E' bello che Mario ci stava quasi per raggiungere. E quella è la sfortuna. 30 punti, dai. Buono svolgimento. Cari amici miei, ci vediamo nel prossimo circuito. Ciao! Ciao!